Che bello Radio Bruno, qui a Sanremo sono arrivati The Colors! Ciao amici, ciao amici di Radio Bruno! Che bello essere qui con voi! Ma che bello ragazzi, vedervi in gara in questa Kermess incredibile, l'ultima edizione di Amadeus, insomma è veramente un momento bellissimo per la musica italiana e non potevate mancare! E lo è anche per noi, lo è anche per noi perché già solo far parte di questo cast, di questo festival è per noi un grande traguardo, perché farlo in questo momento del nostro percorso ha un gran bel significato per noi perché ci teniamo a raccontarci ancora di più a tutta Italia perché sai che Sanremo è un po' un momento unico, un momento evento, un evento di quelli che raccolgono tutte le famiglie davanti ai televisori e io mi ricordo il me da spettatore, da bambino, perché aspettavamo Sanremo e guardavamo Sanremo tutti insieme in famiglia dal nonno alla sorellina e questa cosa mi fa sentire al 100% pronto per stasera, perché poi stasera partiamo. Stasera partite in gara, allora la canzone parla praticamente di quel momento in cui bisognerebbe trovare la forza e la fiducia di approcciare qualcuno che magari ci può interessare. Esatto, il momento in cui bisogna rompere quel muro di ghiaccio, quella barriera di ghiaccio che abbiamo dentro e che spesso quando ci si fida un po' del nostro estinto si rompe appunto quel ghiaccio che ci permette di instaurare i rapporti più belli che sfociano spesso in delle relazioni. Io mi ricordo quando abbiamo assistito a questa scena in stazione centrale a Milano, un momento in cui questo ragazzo, vedevamo questo ragazzo un po' impacciato, un po' timido, che tentava un approccio con una ragazza e quella scena ci ha distratti, ci ha proprio distratti perché effettivamente osservare un ragazzo giovanissimo tra l'altro con tutte le difficoltà che un ragazzo giovane può avere in questo momento storico in cui spesso il primo approccio, il primo contatto è fatto online, quindi con un messaggio sui social, un like, un commento. Ecco, vedere l'aspetto offline ci ha ispirato, ci ha dato il là per poi parlare di quel tipo di sensazione, cioè del rompere il ghiaccio. Anche se il titolo un po' allude al racconto di una relazione tra un ragazzo e una ragazza, ci siamo fermati un po' prima. Abbiamo deciso di raccontare quello che in quel momento ci ha distratti perché forse in questo momento ci sfugge un po' quella forza che abbiamo dentro di innescare e instaurare rapporti. È verissimo, invece il ritmo, la musica è coinvolgente, travolgente, ancora di più di Italo Disco. Ah, wow, che bello che tu stia dicendo questa cosa perché in realtà un ragazzo e una ragazza nasce prima di Italo Disco, diciamo che la parte embrionale di un ragazzo e una ragazza nasce prima dell'uscita di Italo Disco, il che ci permette di non avere ansia perché abbiamo fatta prima, quindi non è che è frutto di una scrittura post-successo, per cui non abbiamo quel tipo di peso addosso. e sì, si basa tanto sul ritmo e si avverte ancora di più la matrice funk della nostra band e cosa che ci sentiamo ancora di più di raccontare in un contesto come quello del festival perché è giusto, soprattutto in questo festival, perché negli ultimi anni io paragono il festival un po' la Champions League, in questo festival dove non c'è più quello standard di canzone Sanremese ma c'è un momento in cui ci si racconta su quel palco e noi abbiamo pensato fosse giusto raccontarci con la sincerità del nostro genere, del nostro sound. A proposito di sound coinvolgente, a proposito di racconto, venerdì durante la serata delle cover con voi ci sarà un ospite speciale e un momento tutto dedicato alla sua carriera. Ebbene sì, era un sogno che appunto Umberto ha deciso di realizzare, di esaudire, un desiderio esaudito perché devi sapere che con Italo Disco, con l'esplosione di Italo Disco anche fuori dall'Italia, abbiamo avuto la possibilità di fare tante interviste in Germania, in Svizzera. Mi ricordo di un evento, il primo evento che abbiamo fatto fuori dall'Italia era in Svizzera a Zurigo, in uno stadio pieno di persone, eravamo in un festival di una radio gigantesca della Svizzera e tutto lo stadio cantava Italo Disco. Quella cosa ci ha permesso proprio di entrare in dei circuiti che mai ci aspettavamo di vivere e in tutte le interviste noi abbiamo citato Umberto Tozzi perché l'abbiamo sempre preso come simbolo, emblema di quella che è la canzone italiana moderna che arriva fuori dall'Italia con l'italiano. Ci piaceva fare questo paragone nelle interviste e poi di lì a poco si è avverato il nostro sogno di partecipare a Sanremo in questi anni e abbiamo pensato perché non ci proviamo. Ci abbiamo provato e Umberto ci ha detto di sì. Siamo felicissimi e lo ringraziamo ancora una volta. Grazie mille appunto ad Umberto Tozzi. Ci sarà un momento coinvolgente. Tutta la platea, tutta la gente a casa, tutti balleranno proprio in quel momento. Ragazzi avete veramente calcato i palchi più importanti. Avete realizzato tantissimi sogni che immagino fossero nei vostri cassetti. Ma dopo Sanremo che succede? Dopo Sanremo c'è un'altra pietra miliare del nostro percorso. Il 3 aprile di quest'anno suoneremo al forum di Assago per la prima volta e sarà una grande festa, sarà un grande evento che speriamo di usare per dire grazie a tutte le persone che ci hanno permesso di vivere il nostro sogno quest'anno e negli anni precedenti. Ma farlo adesso ha ancora più significato per noi. Per cui stiamo preparando uno show incredibile per il forum che sarà appunto un evento, un concerto evento per festeggiare insieme a tutti i fan il nostro percorso. Infatti abbraccerà tutte le fasi della band fino ad arrivare poi a questo periodo, alla canzone di Sanremo. Grazie mille quindi a The Colors di essere stati con noi. Grazie a voi amici di Radio Bruno. We love you.